Parto dall'ultimo capitolo del primo libro sul Covid per dire che cosa. Le conclusioni a cui arrivavo erano queste. Noi professionisti della salute abbiamo compiuto qualcosa di straordinario, alzando giorno dopo giorno la siccella dei nostri limiti. Ma lo straordinario, come dice il nome, non deve diventare una regola. Solo così potremo dare giusto riscontro alle nostre rinunce, alle nostre fatiche. E' la giusta commemorazione che ci ha lasciato. Sono passati tre anni da quando tutto questo succedeva e dove siamo. Pronto di soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi, l'altro ieri sera. Un signore dà in escandescenza, un signore quarantenne, e sfascia tutto il pronto di soccorso, provocando 50 mila euro di danni, mettendo evidentemente tutte le persone. I pazienti, ma soprattutto i sanitari che hanno avuto pronto di soccorso in grande difficoltà, con grande paura. Com'è possibile che tutto questo succeda in questo paese, dopo la ragazza di Udine che ha rischiato di essere uccisa, strozzata, dopo infermieri, medici, operatori sanitari presi a calci nel sedere, presi a schiaffi, insultati, vituperati. Ma che paese è un paese che non è in grado di tutelare le persone che prendono cura della nostra salute, le persone che si occupano della nostra sicurezza, polizionati, carabinieri, e quant'altro insegnanti che si occupano delle istruzioni civili. Questo è un paese finito, un paese che non è in grado in qualche modo di rispettare queste figure. È un paese ignorante, è un paese dove la politica ha delle responsabilità enormi. Perché ha delle responsabilità enormi? Perché quando succedono queste cose, per due o tre giorni se ne parla, adesso mettiamo i posti di polizia nei pronto soccorsi, adesso tuteliamo meglio i nostri medici, i nostri insedianti, poi nella realtà non si fa assolutamente nulla. Quindi c'è una responsabilità enorme anche da parte della politica, se siamo in questa situazione, perché non ha nessuno interesse a tutelare i sanitari a tutelarci. Dopo tutto quello che hanno fatto i sanitari nella pandemia, essere lasciati soli veramente molto, molto, molto triste. E la situazione andrà sempre peggio. Andremo sempre peggiorando, vedrete, ne avremo sempre di più, perché la gente non ha nessun rispetto di questo lavoro. Non ha nessun rispetto del cancio, non ha nessun rispetto della divisa, non ha nessun rispetto degli insegnanti. Non ha nessun rispetto perché viviamo in un paese profondamente ignorante, dove evidentemente la politica non fa nulla per dare un maggior rispetto, una maggior credibilità anche ai nostri lavori, ai nostri mestieri. Quindi dobbiamo dire no a queste violenze. Io spero e mi auguro che le cose cambino e che si voglia riparlare di questi problemi, anche in maniera diversa. Grazie.